no questo non lo fa diare di prego ma sei matto una mia cosa no 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 tu sei matto una mia cosa mamma mia mamma mia ci hai condannati a morte guarda quanti ce n'è sono tre vi ho frtu che moto no sono stato troppo volte nooo c'è calivero nooo nooo si si no 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 ma vedo che mettete in ordine le cose come faccio io a casa mia mi piace molto questo design molto al diavolo al diavolo cominciamo sul fungore sento lo schermo si sono sempre quelli dentro che sta zappando è spaventato male ed è morto ciao oh ma che cazzo ma cosa oh ma come fa what the f ooo ma cosa sta giù dietro questo mondo è un po' banchato piano perché le macchie si distruggono in questo mondo è di legno cosa fai a te ma sono attaccati col patafix oh dove sta andando da pecora da pecora cosa fai cosa fai a pecora non so chi vuole morire oh oh ti sposta ecco voleva morire guardati del dol non ci ha suicidato ma cosa cosa ha detto coglione non l'hai sentito ha detto coglione si calmi 36 fate arrivare alle 4 un tiro te lo volevo io non lo volevo il grano non cresce maiii maiii il grano non cresce il mais lei è sempre la brutta la bella vecchino morino io non so per te me lo immagino avete preso i blocchi della cesta che c'era la aspetta che l'hai in fondo c'è uno scherzo lo mazze come si può giocare aspetta sperca l'acqua è un bicchiere in vetro per il tema i video dove ripicchiate tipo dragon ball ti sembra che abbiamo quattro anni? ti pare che noi ci mettiamo qua lanciarci onde energetiche sfere e a dire è morto è morto esci direttamente esci esci perché c'è uno dietro è uno davanti cioè quello davanti dopo se tu scappi indietro sai che è l'altro dietro e dopo sta terroa porco assietto se c'è uno dietro ce n'è uno davanti no è che ho schiacciato il tasto per la corsa il tasto per la corsa ha fatto così il cretino cioè vedrai che c'è l'uno col pendolo di fuori perché ti vuole eh beh oh dio oh dio oh c'è 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 spostati cazzo no 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 sono sotto i silver d no 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 allora ragazzi oggi presentiamo tre error per i più tosti di voi abbiamo il primo error sta sfondando la porta oh lo sentiresti vedresti sta sfondando che cosa sta facendo la cesta dietro di me che cosa sta facendo quella cesta what the fuck diamanti ancora ma una no 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 moto 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 c'è davvero? no guarda se mi fa da me mi fa ma perchè hai influenzato da me mi fa davvero no ti sto piuttosto per lì e mi fa due eh si sa mai due facciamo un piccolo anche ad Ale eh ma non ce l'ho due appena trovo il terzo vi dico super what the fuck allora ah c'ho spaccato un bloc ti avviemen tra il culo ma guarda ancora io qui ah un altro e spoiler per te non ho capito non ho capito No Sierze virgine No, io sono del cancro lui sei della pesce pesce perfetto Mi scavo quella più avanti vado avanti Ti colpisco o cadi o prendo qualcosa? Oh Sei immortale Ma stai scavando? Perché? Andata a fare un cuore Hai detto sei immortale Belli giorni ragazzi Io sono Agisius e questi sono stati I ultimi highlights Spero che vi siano piaciuti Se è così lasciate un commento, mettete un piace E perché no iscrivetevi Tutti i video sono in descrizione Quindi ragazzi dateci un'acchiata Se magari avete notato che non c'era la vostra parte preferita Oppure volete darmi dei consigli sui prossimi highlights Fatelo sapere nei commenti Prima di concludere voglio ringraziare Alessandro Corsi Perché ha gentilmente selezionato questo clip per me Ancora una volta vi ringrazio per aver visto gli highlights E noi ci vediamo nel prossimo video Quindi Venga ragazzi